Negli ultimi anni si è registrata una tendenza preoccupante negli ospedali di tutto il paese. Sempre più giovani vengono portati d'urgenza al pronto soccorso a causa di un overdose di caffeina. Questo problema, un tempo considerato raro tra bambini e adolescenti, sta diventando sempre più comune. Ciò che è ancora più allarmante è che molti di questi casi riguardano bevande e snack apparentemente innocui che sono facilmente disponibili per i giovani. L'aumento del consumo di caffeina tra i giovani, innegabile. Dalle bevande energetiche commercializzate per gli adolescenti alle bibite zuccherate e persino agli alimenti apparentemente innocui che contengono caffeina nascosta, i giovani sono esposti a questo stimolante a livelli allarmanti. Ma cosa sta guidando questa ondata di consumo di caffeina? E cosa possiamo fare per proteggere i nostri figli dalle conseguenze potenzialmente pericolose? È facile liquidare questa tendenza come incidenti isolati, ma le statistiche raccontano una storia diversa. Ogni anno, sempre più giovani vengono colpiti da problemi legati al consumo eccessivo di caffeina. E questo non può essere ignorato. Secondo un recente studio di Epic Research, c'è stato un aumento significativo delle visite al pronto soccorso correlate all'overdose di caffeina tra i bambini e gli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Questo studio ha messo in luce un problema crescente che richiede attenzione immediata. Dal 2017, il numero di casi è aumentato di uno sbalorditivo. Inserire percentuale o numero specifico per cento. Questo aumento non è solo una statistica, ma rappresenta vite reali e famiglie colpite da questa crisi. Queste cifre sono un duro promemoria del fatto che l'overdose di caffeina è un problema serio che colpisce i nostri giovani a un ritmo allarmante. Ogni numero rappresenta un giovane che ha sofferto, una famiglia che ha vissuto momenti di paura e incertezza. Questi numeri sono profondamente preoccupanti. Ma ciò che è ancora più preoccupante è che queste statistiche catturano solo i casi più gravi che finiscono al pronto soccorso. Molti altri casi potrebbero non essere mai registrati, lasciando un vuoto nelle nostre conoscenze. Probabilmente ci sono innumerevoli altri casi di overdose di caffeina che non vengono segnalati, in cui bambini e adolescenti manifestano effetti negativi senza cercare cure mediche. Questi casi non documentati potrebbero essere altrettanto gravi e meritano attenzione. Questo pone la domanda. Quali sono i segni e i sintomi dell'overdose di caffeina di cui genitori, educatori e gli stessi giovani dovrebbero essere consapevoli? Riconoscere questi sintomi può fare la differenza tra un intervento tempestivo e una situazione che peggiora. Che tipo di bevande e snack facilmente disponibili pensi che rappresentino il rischio maggiore di caffeina per i giovani? Le bevande energetiche, i caffè zuccherati e persino alcuni snack possono contenere quantità pericolose di caffeina, spesso senza che i consumatori ne siano consapevoli. L'overdose di caffeina può manifestarsi in vari modi e la gravità dei sintomi può variare a seconda della quantità ingerita, della sensibilità individuale e di altri fattori. Tuttavia, ci sono alcuni segnali rivelatori comuni che non dovrebbero mai essere ignorati. Ansia, irrequietezza e tremori sono spesso i primi indicatori di sovradosaggio da caffeina. Man mano che la caffeina fa effetto, questi sintomi possono degenerare in vertigini, palpitazioni cardiache e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'overdose di caffeina può portare a convulsioni, allucinazioni e persino perdita di coscienza. È fondamentale ricordare che la caffeina è uno stimolante che agisce direttamente sul sistema nervoso centrale. Se consumata in eccesso, interrompe il delicato equilibrio dei neurotrasmettitori nel cervello, portando a una cascata di problemi di salute fisica e mentale. Tu o qualcuno che conosci ha mai manifestato uno di questi sintomi dopo aver consumato caffeina? Sezione 4 Oltre i tremori, rischi per la salute a lungo termine dell'overdose di caffeina Mentre gli effetti immediati dell'overdose di caffeina sono certamente preoccupanti, non possiamo ignorare i rischi a lungo termine che possono derivare da un consumo eccessivo di caffeina, specialmente tra i giovani. I potenziali rischi per la salute a lungo termine sono ancora più preoccupanti e meritano una seria considerazione. L'esposizione ripetuta ad alti livelli di caffeina durante l'infanzia e l'adolescenza può avere conseguenze durature sul cervello e sul corpo in via di sviluppo di un giovane. Questo periodo di crescita è cruciale e l'interferenza della caffeina può alterare processi fondamentali. Gli studi hanno collegato l'eccessivo consumo di caffeina a un aumento del rischio di disturbi d'ansia, disturbi del sonno e problemi di concentrazione. Questi problemi possono influenzare negativamente il rendimento scolastico e la qualità della vita. Inoltre, l'abuso di caffeina può portare a problemi cardiovascolari più avanti nella vita, come ipertensione e aritmie. Questi problemi possono diventare cronici e richiedere un monitoraggio costante. La caffeina può anche interferire con l'assorbimento di nutrienti essenziali, come il calcio e il ferro, fondamentali per la crescita e lo sviluppo delle ossa durante l'adolescenza. Una carenza di questi nutrienti può avere effetti a lungo termine sulla salute. Questo può aumentare il rischio di osteoporosi e altri problemi ossei più avanti nella vita, rendendo le ossa più fragili e suscettibili a fratture. È importante ricordare che il corpo dei giovani è ancora in fase di sviluppo ed è quindi più vulnerabile agli effetti negativi della caffeina. La prevenzione è fondamentale per garantire una crescita sana. I genitori e i tutori devono essere consapevoli di questi rischi e adottare misure per limitare il consumo di caffeina nei giovani. Educare i ragazzi sui pericoli dell'abuso di caffeina è un passo cruciale. Quali misure possono adottare genitori e tutori per mitigare il rischio di sovradosaggio da caffeina e promuovere scelte di bevande più sane per i propri figli? Scegliere alternative salutari come acqua, succhi naturali e tisane può fare una grande differenza nella salute a lungo termine dei giovani. Sezione 5. Proteggere i nostri giovani Consigli pratici per genitori e tutori La buona notizia è che ci sono misure concrete che genitori e tutori possono adottare per proteggere i propri figli dai rischi di overdose di caffeina. Queste misure non solo aiutano a prevenire problemi immediati ma promuovono anche abitudini sane a lungo termine. Prima di tutto, la comunicazione aperta è fondamentale. È essenziale creare un ambiente in cui i bambini si sentano a proprio agio nel parlare delle loro esperienze e preoccupazioni. Parla con i tuoi figli degli effetti della caffeina e dei potenziali pericoli di un consumo eccessivo. Spiega loro come la caffeina può influenzare il loro corpo e la loro mente causando problemi come l'insonnia, l'ansia e l'aumento della frequenza cardiaca. Spiega che le bevande energetiche, alcune bibite e persino alcuni snack contengono caffeina e vanno consumati con moderazione, se non del tutto. Mostra loro come leggere le etichette nutrizionali per identificare la presenza di caffeina nei prodotti. Incoraggia i tuoi figli a fare scelte di bevande più sane, come acqua, latte. Coinvolgili nel processo di scelta delle bevande rendendolo un'attività educativa e divertente o succhi di frutta naturali. Queste bevande non solo sono deliziose ma offrono anche benefici nutrizionali importanti. Queste opzioni non solo dissetano ma forniscono anche nutrienti essenziali senza l'aggiunta di caffeina. Promuovere queste alternative può aiutare a ridurre la dipendenza dalla caffeina. Dando il buon esempio e facendo scelte consapevoli come famiglia puoi creare un ambiente domestico che dia la priorità alla salute e al benessere. Coinvolgi i tuoi figli nella preparazione dei pasti e nella scelta degli alimenti insegnando loro l'importanza di una dieta equilibrata. È importante ricordare che genitori e tutori non sono soli in questa lotta. Ci sono molte risorse disponibili come gruppi di supporto e consulenti che possono offrire assistenza e consigli. Anche le scuole e le comunità hanno un ruolo da svolgere nell'educare i giovani sui potenziali pericoli della caffeina e nel promuovere scelte di vita più sane. Le scuole possono organizzare programmi educativi e workshop per sensibilizzare gli studenti. La collaborazione è fondamentale per affrontare questo crescente problema di salute pubblica. Lavorando insieme possiamo creare un ambiente più sicuro e sano per i nostri giovani. Cosa ne pensi dell'implementazione di programmi educativi nelle scuole per sensibilizzare sul consumo di caffeina tra gli studenti? Questi programmi possono fornire informazioni preziose e strumenti pratici per aiutare i giovani a fare scelte più consapevoli. Grazie a tutti.